Il motivo però è politico da questo punto di vista, cioè noi dobbiamo andare a riformare una serie di cose, c'è così dire che il contratto del gruppo in piego è un contratto un po' particolare, la differenza di contratti standard che ci sono nell'ambito del mercato del lavoro in generale, per cui abbiamo preferito un po' meno, se in comuni in questo punto di vista, andare in questa direzione anche perché è nostro obiettivo del prossimo anno riformare tutto, questo se vedete è un passaggio di intermedio perché si parla delle competizioni di fretta ai comuni, il prossimo passaggio nostro vorremmo fare l'ultimo passaggio per tutti e sarà nostro interesse di vedere di strappare come c'è, dai 41 al 87, un costo di cellulino più basso e vero dei volumi di cellulini che facciamo, non sono tanti seguitori, c'è stata un'informazione che ho chiesto che cosa fare più vicino a noi, cioè ho chiesto di me e ho chiesto di fare la bassa romagna, riguardo alla bassa romagna, allo stato attuale a un'azienda sterile che mi fa ceduto lì, però stanno pensando di portare dentro la gestione delle nostre pari che mi hanno detto, purtroppo ho avuto la possibilità di parlare un po' di anni fa con queste persone, con questi colleghi, diciamo, purtroppo legato all'evento che siamo trovati a numerare, anzi da pochi figuri che mi chiedeva molto di silenzio per ricordare insieme ai coloni di Bagliano e non l'ho chiesto di scambiare quattro parole con loro e abbiamo fatto sempre questa scelta, per cui l'economicità è assolutamente molto importante, adesso non si parla di differenze molto, molto diverse, però se mi voglio dire a mezzo di 10-10% di sconto si possono trovare tranquillamente, però ci serve una gestione particolare che non ci conviene allo stato attuale, visto l'obiettivo politico per gli altri, che mi hanno fatto fortemente in tempo a seguito. Altri che vogliono intervenire? Prego, un gruppo, grazie. Fai fermato un po'. No, sarò bene, grazie, buonasera. Ricordisco tutte le ragioni che ha in capto il Signore, naturalmente i numeri che si possono migliorare, soprattutto i numeri legati che con 12 euro davanti si possono migliorare e ben meglio, e detto questo per concire il nostro voto favorevole a questa convenzione, grazie. A questo punto, prego, considerate. Faccio la definizione di voto e con auguro che questo meccanismo produca più vantaggi, diciamo, perché in tutto il punto di vista economico, per l'ente, siamo favorevoli a dire. Grazie. Grazie. La definizione. Grazie. Grazie a tutti.